la discesa del prezzo del gas sotto i 100 euro anche se purtroppo dobbiamo constatare lo facciamo con le quotazioni in tempo reale che oggi si c'è stata una leggera risalita ma sembra che ormai il trend si sia invertito e a questo proposito poi è arrivata anche una nota confortante del codacons secondo cui ecco i consumatori ai consumatori verrà evitata una nuova stangata e gli italiani si salveranno dal rincaro del 70 per cento delle tariffe previsto nelle settimane scorse dagli analisti ecco tutto questo è vero e soprattutto la domanda che tutti gli italiani si fanno come e quando scenderanno anche i prezzi delle bollette le bollette sostanzialmente i prezzi delle bollette sostanzialmente riflettono quanto accade nelle settimane nei mesi addie nei mesi precedenti ci saranno sicuramente dei ribassi ma dobbiamo anche distinguere il mercato libero da quello tutelato dove attraverso l'autorità di regolamentazione per energia reti ambiente i vari adeguamenti saranno effettuati su base mensile in riferimento al psv quindi sicuramente quindi appunto di scambio virtuale quindi sicuramente vedremo una riduzione delle bollette ma attenzione il pericolo di continuare a visualizzare prezzi elevati e comunque costantemente dietro l'angolo quindi molta molta attenzione a monitorare questa serie di elementi che stanno oggigiorno influendo sui ribassi delle oscillazioni del ttf quindi clima favorevole stoccaggi pieni una domanda attenzione in riduzione da parte delle aziende non dimentichiamo i timori ai problemi legati alla recessione e questo mette anche in luce la criticità del momento quindi sicuramente una notizia importante il ribasso della quotazione ma allo stesso tempo non dimentichiamo che molte aziende purtroppo oggigiorno stanno decisamente soffrendo e anche questo elemento sta influendo appunto sulla riduzione della della domanda a